Sul quadrato di finale per 42 kg maschile Gnosco Antonio Mapputo Luca a seguire finale per 46 kg femminile Rantasto Cecilia Musume Cilenia finale per 50 kg femminile Stancanelli Anja D'Amico Maria Pia si prepari quadrato a C.P. Paruso finale per 52 kg C.P. primo chiamato Grazie 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 a tutti. Antonio, 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 guarda dietro di te. Antonio, dietro di te. Guarda. Si. Ti preparo su un quadrato B di Perla Paris. Ce la spostano la macchina urgentemente. Una SEAT-13-ARTEA. T-4-9-4-5-8. E una lancia. B-7-1-0-B-7. La spostano urgentemente. Grazie. Una SEAT-ARTEA e una lancia. Arrivano i amici. Per favore. Grazie. 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 Grazie.